Stefano Costamagna, 63enne di Magliano Alpi, ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio intorno alle ore 2. La sua vettura si è scontrata frontalmente con un'altra automobile sulla statale Fossano Cuneo, nei pressi di Castelletto Stura, al bivio con San Biagio di Centallo. Sul posto si sono immediatamente recati gli operatori del 118, ma per l'uomo non vi era più nulla da fare. Il guidatore della seconda automobile incidentata ha risciutato il trasporto in ospedale. Sulle reali dinamiche dell'incidente stanno indagando i carabinieri. Marco Ficarra, l'insegnante di musica monregalese 46enne, accusato di atti sessuali con una studentessa minorenne brasiliana residente a Mondovì, si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Cuneo da giovedì 10 gennaio. Ficarra era stato raggiunto dal solo divieto di avvicinamento alla ragazza appena 13enne all'epoca dei fatti a lui contestati. Ora la sua posizione si è aggravata alla luce delle testimonianze raccolte a suo carico dalla procura di Mondovì, testimonianze che lo accusano di aver ceduto stupefacenti alla vittima. La relazione con la giovane era stata interrotta solo qualche mese fa ed era durata un anno e mezzo. Coinvolto nella vicenda giudiziaria è anche Guglielmo Bissoni, figlio dell'ex procuratore aggiunto di Cuneo Guido Bissoni, l'uomo accusato di atti sessuali con la stessa studentessa e oggi in regime di libertà dopo essere stato a sua volta per un certo periodo agli arresti domiciliari. La procura di Mondovì e di carabinieri della compagnia locale stanno indagando su una possibile truffa perpetrata dall'agenzia viaggi e reagio di sole nei confronti di numerosi clienti. La titolare dell'agenzia non ha precedenti penali ma risulta irreperibile per malattia ed ha ricevuto fino ad ora almeno una decina di denunce per aver prenotato viaggi all'estero senza pagarli successivamente, appropriandosi quindi del denaro dei suoi clienti. Per il momento a presentarsi dai carabinieri sono stati in maggioranza cittadini stranieri e solo in due casi si è trattato di clienti italiani. I primi a segnalare l'anomalia delle prenotazioni non pagate dall'agenzia sono stati, sabato scorso, due cittadini congolesi ai quali hanno fatto seguito gli altri truffati. Le cifre sostratte hanno già raggiunto il valore complessivo di 10.000 euro. La tabaccheria edicola aperta fino a ottobre in via Torino 96 a Saluzzo è stata rapinata intorno alle 19.30 di giovedì 10 gennaio da due malviventi dai volti travisati che parlavano italiano senza inflessioni straniere. Uno di loro, armato di coltello, è saltato sul bancone ed ha bloccato la moglie del titolare, la quale in quel momento era da sola all'interno dell'esercizio. Dopo essersi fatti consegnare l'incasso, compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saluzzo, che hanno fatto scattare il piano antirapina previsto in questi casi ed hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza. La mattina di venerdì 11 gennaio, presso il Viminale a Roma, sono stati presentati tre simboli per le liste delle prossime elezioni politiche che comprendono il nome Monti. Il secondo ed il terzo in ordine di apparizione sono per Camera e Senato ed appartengono alla coalizione che appoggia il Presidente del Consiglio di Missionario, mentre il primo è stato presentato dall'omonimo consigliere comunale di Frabosa Soprana, Samuele Monti, libero professionista, agente di Allianz SPA e candidato sindaco del Paese alle ultime comunali, poi sconfitto da Iole Caramello. Residente a Venaria ma originario di Frabosa, Samuele Monti si è candidato a sua volta alla presidenza del Consiglio. Il suo simbolo, appartenente alla lista Monti Presidente per l'Europa, è stato presentato per settimo, mentre quelli di Mario Monti sono rispettivamente all'ottavo ed al nono posto.